Il problema delle dipendenze da gioco si è evoluto ed è cambiato negli anni. Il quadro delle dipendenze è passato, complice forse anche la pandemia, dall'utilizzo delle classiche slot machine alle piattaforme online e all'acquisto dei gratta e vinci. Il Dipartimento di Salute Mentale delle Dipendenze di Cremona ha presentato il suo nuovo progetto. Il piano del 2023 prevede una serie di azioni molto proattive sul territorio che vanno dall'inserirsi nell'ambito delle case di comunità che stanno nascendo sul territorio. Ci sarà un ulteriore intervento presso i medici di medicina generale con i quali si è aperta una forte collaborazione con la possibilità anche degli operatori di andare proprio negli studi di medicina generale a intercettare il bisogno. C'è poi un'attività che avevamo iniziato in questi anni in città che era quella legata al gioco d'azzardo al femminile quindi con un bellissimo progetto insieme alle parrucchieri parrucchieri intese come figure sentinella che rispetto alle donne intercettano situazioni di disagio e di difficoltà. Questa, testata prima sulla città, verrà portata ora anche nel resto della provincia. La comunicazione con i singoli comuni diventa poi fondamentale perché questo tipo di dipendenze colpiscono persone molto differenti tra loro. Ci sono proprio due picchi di popolazione colpita. C'è una parte della popolazione anziana che è più coinvolta nei giochi tipo gratta e vinci tipo modelli un po' più tradizionali, le slot machine piuttosto che i vari tipi di lotterie che ci sono nei luoghi fisici, nelle tabaccherie. Mentre abbiamo poi un altro picco di età più più giovane e prevalentemente maschi che è intrappolata nell'online. Particolarmente additive per i giovani sono le scommesse sportive sempre accessibili in ogni minuto della giornata o del match che si sta seguendo. Grazie.